I carabinieri hanno pochi dubbi. Ad uccidere con diverse coltellate all'addome il 22enne di Alessandria della Rocca, Vincenzo Busciglio, sarebbe stato proprio lui, Pietro Leto, 19 anni, compaesano della vittima. Dopo una nottata di fitti interrogatori, i carabinieri hanno fatto scattare un provvedimento di fermo di indiziato del delitto di obicidio a carico del 19enne. Ricostruite le fasi dell'omicidio in via Sant'Antonio ad Alessandria della Rocca, a seguito di una segnalazione telefonica, i militari dell'arma avevano appreso che un giovane 23enne era deceduto all'ospedale di Ribera a causa di profonde ferite causate da arma da taglio. A quel punto sono immediatamente scattate le indagini svolte dai militari della stazione di Alessandria della Rocca, del nucleo operativo della compagnia di Cammarata. Sulla scena del crimine intervenuto personale specializzato, che ha subito eseguito un minuzioso sopralluogo, sono state dunque contestualmente avviate serrate indagini dai carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca, sviluppate nell'arco di tutta la nottata, mediante l'ascolto di numerose persone appartenenti al circuito relazionale della vittima, attività che hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico di un 19enne del luogo, Pietro Leto, fortemente sospettato al momento di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, trasferito subito in carcere. Resta ancora da chiarire il possibile movente dell'episodio criminoso.